Ma cosa è successo sul volo HU 438 della Hainan Airlines in volo da Roma a Fiumicino a Shenzhen in Cina? Dopo il decollo avvenuto alle ore 10.11 del 10 novembre dalla pista a 16 destra dell'aeroporto di Fiumicino, il motore destro del Boeing 787-9 con a bordo 249 passeggeri e 16 membri dell'equipaggio ha emesso forti boati udibili anche alle persone che in quel momento stavano filmando l'aeroplano. Oltre ai forti boati erano visibili anche fiammate che fuoriuscivano dal motore stesso. L'aereo, dopo aver compiuto una salita iniziale a 6.000 piedi, si è diretto verso il mare dove, sotto il controllo diretto dell'Air Traffic Control, ha circuitato per circa un'ora per effettuare la manovra di fuel dumping, ovvero di scarico del carburante, per diminuire il proprio peso ed atterrare in sicurezza sempre sulla pista a 16 destra dallo stesso scalo da cui era partito. Da una prima ricostruzione dei fatti, anche in base ai video raccolti, in contesti similari i problemi di questo tipo al motore sono stati spesso generati da uno stalo al motore, provocato da una interruzione improvvisa del flusso d'aria al motore stesso. Questo può anche portare a fiammate di ritorno improvvise, in quanto l'interruzione del flusso d'aria nelle camere di combustione provoca un forte squilibrio del rapporto aria-carburante. Questo squilibrio porta ad un accumulo di carburante non bruciato, il quale può accendersi in modo brusco, improvviso e violento, e provocando fiammate che fuoriescono dall'ugello posteriore. I piloti sono addestrati a gestire situazioni come queste, anche riequilibrando il flusso al motore. Il velivolo, anche con un solo motore, può effettuare quindi il rientro in sicurezza verso l'aeroporto. Naturalmente, fenomeni del genere possono causare danni anche gravi al motore stesso, in quanto dipendono da ciò che ha causato lo stallo al motore. Il Burst Strike potrebbe sicuramente causare questo tipo di fenomeno, in quanto l'urto violento con la fauna aerea può interrompere di colpo il flusso d'aria e rompere anche le palette del fan, oltre che di altre parti interne al motore, come ad esempio le turbine. Mantenendo il pieno rispetto delle indagini che verranno svolte dall'ANSV per determinare le cause dell'incidente, e sui cui sviluppi vi terrò sicuramente aggiornati, possiamo al momento notare alcune parti del motore molto danneggiate, nonché tracce sulla fusoliera attribuibili ad un probabile impatto con volatili. Ricordiamo infatti che, in caso di impatto con volatili, il comandante del velivolo ha l'obbligo di inviare all'autorità il Burst Strike Report. Se vuoi approfondire la tematica del Burst Strike, ho realizzato un video molto dettagliato che puoi trovare sul mio canale YouTube. Trovi tutti i link in bio.